Io durante la mia carriera ho avuto l'avventura di girare tante regioni, tante città d'Italia, d'Europa e anche al di fuori del nostro continente. E ho sempre avuto la gioia di poter rivendicare con orgoglio il fatto di essere figlio di questa terra, cioè essere in qualche modo un discendente dell'acra gassellinistica, dell'agrigentum dei romani, di provenire dalla terra di Pirandello, di Sciascia, anche di Camilleri. E questo per me è stato sempre un motivo di grande orgoglio, lo dico, lo ripeto, dovunque io sia stato l'ho rivendicato. E allo stesso tempo mi farebbe piacere che questa terra crescesse sempre più nel prestigio, nell'autorevolezza, non solo guardando a questo grande, straordinario, bellissimo passato e alle sue bellezze, ma anche per le realizzazioni del presente e di un futuro prossimo. E allora vengo qua con gioia e con la speranza di portare un pizzico di fortuna in più a questi territori, affinché vi sia veramente per, soprattutto le nuove generazioni di questi territori, un progredire, un migliorare da un punto di vista economico, sociale e anche culturale, anche se proprio la cultura forse è il nostro punto di maggior forza, grazie a un passato straordinario.